Ciao a tutti, benvenuti all'interno del canale Torx. Oggi andremo a fare un viaggio assieme nella famiglia Strength. Vediamo qui dietro di me due panche, una panca piana, la VBX 2000, una panca regolabile, la VBX 2200 e la sorellina più piccola, una CC Squat Machine VBX 1800. Partiamo dalla sorella più grande, andiamo a vederla bene nel dettaglio assieme. La VBX 2200 si presenta con la possibilità di regolare la porzione di schienale e la seduta facilmente attraverso le maniglie laterali. La maniglia anteriore invece ne permette un facile e comodo trasporto. Ve lo mostro così andiamo più nel dettaglio. Eccoci qua. Parliamo subito di ingombri. Come vedete la VBX 2200 è molto compatta pur restando funzionale al 100%. Un ingombro massimo di 1512,7 mm per 649 mm. Sopporta un carico dell'utilizzatore di 135 kg anche grazie alla sua imbottitura di 65 mm, mentre il carico complessivo è di 400 kg. Parliamo di utilizzatore più pacco pesi. Vedete le due manopole gialle di regolazione schienale e seduta che andremo poi ad approfondire nel nostro Tech Corner per delle regolazioni facili e veloci. Oggi la vedete in colorazione black con doppia verniciatura antigraffio è disponibile anche in versione silver. Direi che la sorella più grande è stata analizzata, ora passiamo a vedere le altre. Andiamo adesso a vedere una panca piana dove solidità e attenzione al dettaglio la fanno da padrone. La nostra VBX 2000. Maniglia e ruote di trasporto incluse, quindi prendiamola, la portiamo avanti e la analizziamo bene nel dettaglio. Dimensioni un po' più compatte rispetto alla sorella maggiore, 1399,5 x 529 di ingombro. Cuscineria anche in questo caso di 65 mm con alcuni accorgimenti tecnici che andremo ad approfondire nel nostro Tech Corner by Torx. Dotata di doppia vernice antigraffio, disponibile sia in finitura black che in finitura silver, sopporta 135 kg di utilizzatore per un carico complessivo utilizzatore più pacco pesi di 400 kg. Andiamo adesso a vedere la sorellina più piccola, la nostra CC Squat Machine, la VBX 1800. Maniglia e ruote di trasporto incluse, compatta, facile da spostare e allora prendiamola, la mettiamo al centro, anche lei sotto la lente di ingrandimento. Eccoci qua. Cuscineria dello spessore di 60 mm per avere il massimo del comfort sia nella zona di appoggio per le gambe che nella zona di vincolo per le caviglie. Le regolazioni sono molteplici sia come vincolo per le caviglie, quindi in profondità e anche cinque posizioni di regolazione verticali che andremo ad approfondire nel nostro Tech Corner. Il nostro breve viaggio all'interno di alcuni dei prodotti della gamma Strength di Torx si chiude qui. Noi rimettiamo a posto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!